Bella a tutti adegame, bentornati a un nuovo episodio della Bronze to Diamond Siamo qui stavolta con Shen top, l'avevo usato in giungla però la... E non è andata bene per niente Però la sua vera forza è in top lane e adesso con il Colossus Veramente diventa enorme questo champion Perché scala troppo bene, ha un sacco di scudi Quindi con la maestria, col punto di maestria che dà 8% di scudi incrementati Tra lo scudi passiva e il Colossus diventa enorme È un tancone imponente L'unico problema in early game è il wave clear Però si regge bene tutte le lane E è arrivato ad un certo punto che... Cioè, a parte fate comunque sempre dei buoni danni Anche per gli obiettivi Per prendere obiettivi tipo Drake Nel nostro caso visto siamo in top lane il coso, il tizio qua R... 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 Rerard Non uso l'acqua in niente E quindi è pretty strong come pick Io ve lo consiglio Adesso vi faccio vedere Non si vede Non l'ho visto per niente Ma secondo me è molto forte State sempre in linea L'aria dietro al target enemigo In modo da poter prendere La Q potenziata Cercate di tenere Sempre di... Farvi attraversare Farvi attraversare l'avversario con questo filo Perché lo arrastate e gli tirate giù un sacco di pizza all'avversario Allora prendiamo il taunt per seconda La cosa migliore da fare è fare Prima il taunt attraverso e poi con la Q Attraversare l'avversario E picchiarlo Adesso stiamo attenti che tra un po' potrebbero arrivare In top lane È un pretty good counter di Master Yi Perché quello W block out attacchi Per un bel periodo di tempo Non ingaggio col taunt adesso Perché potrebbe arrivare I loro Master Yi Quindi me lo tengo Se viene a fare un counter gank Qui è Parecchio buono Se arriva Master Yi sempre Ehi la Ah c'è troppi minion Non posso tre darli in mezzo ai suoi minion Ho preso un sacco di pizza Quindi aspettiamo che debusci Ok preso Se beccate la Q Fate un sacco di danni in più Perché vi aumenta Sia il danno in sé Che raddoppia Sia l'attack speed Che è la cosa più importante Qua il taunt lo uso Perché così prendo lo scudo del Lo scudo del Colossus E tra le tanto Mi sarebbe arrivata sotto torre la wave Quindi non mi avrebbe dovuto Zonare Per la paura di Master Yi Faceblood Interessante Vediamo se riusciamo a tauntarlo sotto torre Vedete gli vado dietro Gli vado dietro con Con la E E poi faccio la Q Attraverso lui In modo da tirarlo giù Faccio la W Poco prima che finisca il taunt Perché così Non mi può stunnare subito dopo E non mi può Cioè Non mi può tirare autoattacchi In generale Qui con lo stunnare ma Si è tirato su un bello scudo Che l'ha salvato Ah giusto All'ignite All'lucky Comunque Per me va bene Sto trade Perché La wave è andata sotto torre Quindi lui perde un sacco di minion E non ha il TP per tornare in lane Quindi ne perde una marea E la wave si frezza per me Quindi anche se sono morto È ottimo per me Io qua ho fatto questo flashing edge Perché avevo A mio favore i minion E infatti l'hanno ammazzato di minion Gli hanno fatto una marea di danni Adesso Torno in lane a pie Così posso Normalmente Tornerei in lane col TP Perché dato che l'avversario All'ignite Per prendere il vantaggio di exp Ma adesso Sia perché la wave va a favore mio Sia per il fatto Che comunque sono shen Quindi Probabilmente Ulterò qualcuno O la botte O la middrain Per salvarli E mi serve E se ho il TP per tornare in lane È molto Molto good Come cosa Io vi consiglio di prendere La sunfire Perché come champion Che ha poco wave clear La sunfire è ottima Oppure anche la titanic Però Penso la sunfire sia Migliore se siete contro una d Anche perché Comunque le resistenze Vi fanno comodo Beh vabbè mate Se è uno scarso Se va a sbattere contro i minion Sto tizio Cristo santo Basta così dai Stiamo attenti in botte Stiamo sempre Con un occhio sulla botte Per vedere se dobbiamo Ultare E sempre lontani Da Da Renekton Che può fermarci La ultima Sì e quindi Stai cercando di dirmi qualcosa Mate Ecco ho preso un po' De pizze Il problema è che Essere full Ha un sacco E io non pensavo Andiamo a fregarci La piantina Ecco la prende lui Perché È full hp Però La prende lui Annaggia Adoggiato Ancora la mia ultima Non serve Comunque È comodissima Avec Avec Shining Team C'è una pressione Sulla mappa Gli avversari Devono stare Sempre attenti Per secondo Max il taunt Per il cd Perché la w Non aumenta Il tempo In cui annulla Gli auto attack Diminisce solo il cd Invece preferisco Aumentare il danno E diminuire il cd E il taunt Comunque sarà La spell Che userò di più Sia nei trade Che Per fightare Che Per fightare Il late game Sì Boom 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 E questo potrebbe essere Un problema Ma Massacrato In un trade C'è di nuovo L'ignite Questa non me l'aspettavo Ma M'ha aperto proprio Nel trade Eppure C'è il colosso Cioè non c'è nemmeno Il fervor Io non riesco a capire Come mi faccia Tutti questi danni Prendiamoci Le tabi E altra armor Questo Questo ragazzi Non lo so C'aveva 200 hp Poi vabbè Ha ultato Eccetera Però Mi ha One Hittato Nonostante io Avesse un sacco Di scudi Avevo l'armor E lui non ha Nemmeno Il fervor Che dice che gli da Gli da dei danni Aggiuntivi No Ha il colossus Quindi non capisco Come aveva fatto A Tancarsi così Tanti Cioè a farmi tutti Sti danni Avendo il colossus Ma vabbè Comunque lo stiamo Outfarmando Abbiamo visto che non vinciamo I trade Quindi aspettiamo Gli verci i nostri item Prima di ricominciare A traddare il tizio Ma dai Noi gli facciamo danni Boom Andiamo a dare una mano Alle altre lane Tanto il lane abbiamo visto Che non possiamo Possiamo vincere Per adesso Finchè non ci abbiamo Non ci siamo chiusi Un po' di item Ah è questo Quello vero? No Non mi soffiare Dico Sarà questo Quello vero Buono così Pensavo Ero convinto Fosse quello Perché qua è Mi sarò sbagliato Andiamo back E facciamoci E facciamoci Insieme a faccio Fare gli ad attacchi No solo sui champion Abbiamo abbastanza danni ancora 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 non c'ho Lo ultimo Io Lo ultimo Unlucky Ok questo c'è Mettiamoci qua Così si arriva Renetto Nei facciamola qua Addosso What's going on What's going on Che vai fa Ha flashato Quindi va bene Va bene Ho parato lo stun E un bel po' Di autoattacche Il bello Della W Shen È che È istantanea Come avete potuto vedere Non ha cast time Non ha delay Di nessun tipo Questo ha missato Il suo Il suo Coso Che era Il suo stun Non facciamoci stunare Sottotorre Come al solito C'è casco Non avevo Qua il problema Il problema che c'è stato adesso Eh questo Fa la Q Ah no ok Il problema qui È che avevo fatto la Q Prima Quindi non ce l'avevo sotto E non ce l'avevo per parare il suo stun Avesse avuto la W Cioè la Q vicino Perché la W si attiva Dove c'è la Q E lì potete In pratica Preparare gli autoattacchi E purtroppo Non l'ho potuto fare Perché stava Stava troppo lontana Ho sbagliato io E non me la sono portata Non me la sono portata dietro Comunque penso farò Lo zezerot Subito dopo E poi una Poi vediamo Lo zezerot per pushare Tanto non Dei danni Non penso di buttarlo giù Anche perché Ho difficoltà adesso E quando si sarà Chiuso a black cleaver Sarà sempre più difficile Match appuntro netto In realtà non è male Però devi giocare passivo E invece Ho giocato aggressivo Devi Quando ti viene lui addosso Devi Lo tradi Con lo scudo Lo tradi E invece Che c'ho voglia sempre Di vincere lane Vado aggressivo E faccio le cazzate Comunque Alla fine Stiamo sempre sopra i farm Boom Ecco di questo Stiamo in mezzo Ai miei minion Possiamo fightarlo Però basta Adesso che non c'ho Più lo scudo Basta così Non facciamoci togliere Altra arma Urca Vabbè Questi hanno perso Un po' di tempo Facciamo perdere Il più tempo possibile Andiamo back E ridippiamo top Volendo Ok andiamo back Tanto L'avrei persa Comunque Ce la faccio Sì Avrei persa Comunque La torre In tople Che vai faccio Prendiamo questa Andiamo A piedi Visto tanto Ormai la torre L'abbiamo persa Però ho salvato La vita Jace Quindi Ma va bene 6-1 Jace Con la goccia What Chi c'abbiamo Qui Ok un drake Intanto questi Continuano in tople Ma va bene Stai pure in tople Intanto perdete tutto Sul resto della mappa A me Mi va più che bene Ok quello è andato Di là Quando avete Sunfire Per pushare È meglio Tancarsi Minion Ma va a fare Più danno All'area Possibile No Lasciamo lì Renet Potrei andare A difendere Col tp Però Questo è un genio Del male Ma vabbè Pushiamo sta wave Portiamoci dietro i minion Con la Sunfire Per l'assittare Vi conviene sempre Tancavere Le wave Sennò rischiate Che vi faccia Missare solo minion Non pushò Molto velocemente Perché non abbiamo Attack speed Né niente E la Q Non fa danni Sulle torri Purtroppo Però vabbè Piano piano Si push È per questo Che lo zzzerotto È molto comodo Per mettere Per mettere Pressure Sui lane Sempre Ok C'è pure Cosa che non era Non era calcolato Ma io siccome Tanto penso Di essere morto Tanto vale che Che pusho pure La wave dopo Ma pensavo C'è fosse pure Mastery Perché era Però in effetti Perché dovrebbe venire Da sola Dovevo andarmene Basta Appena l'ho vista E invece So Ho peccato Di avidità Di avarizia Avidità Avidità L'operate 08 Ci mancano Un po' di gold Ancora L'utilizzo Che c'è il thunderlord Che c'è il thunderlord Thunderlord Qua bot Pure c'è Da clearare Questa wave Spendiamogli Il nostro Coldown Nella volte Andiamo In bot lane Let's see Oh Cavolo Microfono ballerino Allora 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 Prendiamo Questa wave In bot lane Non uso Il Tanto adesso Per tornare in lane L'ho usato prima Ma Perché mi potrebbe Servire in fight Quindi Me lo tengo Vot lane Si è accumulata Una big wave Adesso Perché arriva pure L'altra wave Che si aggiunge L'altra wave Le Ho dinheiro Che L'ho Che L'ho Ne Che 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 Chi Che 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 Mamma mia quanto scudo Tra Sterak e tutto Qua sto tankando io C'ha il beggio scudi ha fatto Sterak è colosso Se ha tirato giù non so quanti scudi Ho il flash io Possiamo fare un bel flash taunt Per tauntare in genere si fa taunt E poi flash Appena alla fine E potete anche fare Dei taunt storti Tipo fate il taunt Da qui a qui E poi flashare di là La gente non ci capisce un cazzo Poi Io penso che i champion che vengono usati poco Siano i migliori da impararsi Perché la gente non sa Non sa giocarci contro Non sa giocarci contro per niente Quindi Spesso Non sanno come counter alvi Quindi risultate ancora più forti Ok abbiamo tutte le resistenze Assolutamente ci potremmo fare una titanica Per pushare ancora più velocemente Andiamo 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 a pushare top lane Adesso Penso ancora di non potermi fare un 1v1 renekton Perché Ha troppi danni Tra black cleaver Sterak Ignite C'è di raggio Troppi danni Non penso di essere in grado di farm L'1v1 Quindi aspetto Mi allontano perché Ecco c'è anche renekton Non metto ancora zezerotte Perché me lo tolgo un instant Aspetto che Ducero renekton Che se Se ne va da qualche altra parte Visto che lui è l'ignite Mentre Io ho sia il tp Che la ulti per entrare in fight Oh ho sbagliato Qua ho sbagliato raga Abbiamo usato lo sterak Mannaggia L'abbiamo fatto per caro lo sterak Adesso Lo metto da zezerotte per pushare Io me ne vado boys Non ho molte Molte risorse per picchiarlo Ecco Vai fate voi Fare i vostri boys Boom Godric E continuiamo a picchiare Mi f no f In chat all Ricordo che abbiamo ancora L'ulti per salvarlo Non uso il taunt Me lo tengo ancora Ah non ho fatto in tempo Ultarla Penso l'avrei potuta salvare Qua ci vorrebbe essere No Twitch è morto Oh non sarà mica Quello falso Questo qui Chissà perché C'ho come st'impressione Vabbè Questo lo ammazziamo Sono gold Alla fine Un altro Sian E io me ne vado boys I'm out of here Oh oh Sunfire Sunfire Ah Uh scudo Mamma mia Non ho ultato qui Tanto sarebbe morto lo stesso Ultare per mare Prendere una kill Su Su coso Non mi sembra molto morto Andiamo per la nostra Titanic Sì dai Prendo pure la diamant Prima No Dio Oh Dio Baron Beh Qui avrei potuto salvare qualcuno Però Stavo ridendo perché ho detto Dio Baron Anziché Dio Baron Allora Capite no? Fa molto ridere Preghiamo io un po' Il giungolo Due E tre Il bello dello squisciane È che viene Il suo cooldown Viene ridotto A inizio di quattro secondi Per ogni skill Che Hittate O che Hitte i vostri alleati E poi Arriva fino a sei secondi Adesso Sfruttiamo la speed Non ci siamo arrivati Lo stesso Voglio sfruttare la speed Dello Zazzarotte Per arrivarci Ma Aia Questo fa male Flash subito Ancora Non lo ulto Che non serve Abbiamo i due Osean Questa è la copia Muori 30 gold È good Qua se potrebbero fare Il baron Tranquilli Oppure possiamo Prenderci Nemedal Tranquilli Anche quella È una bella idea Qua è la W Cioè È troppo forte Sta skill Para tutti gli autoattacchi Aspettiamo così La sua Q E poi Lo dauntiamo Qua siamo sicuri Perché se no Avrebbe dovuto Maridoggiarci Doggiasci Con la sua Q La nostra W Vai Picchiamo Dai 30 volte Questi Boom Possiamo continuare A pushare Ma si Vai Picchiatelo Picchiatelo Vai L'unico effetto Dello scudo È che Si attiva Quando Tipo Quando la Q Finisce Di essere attivata Nel senso Non si attiva Appena Premete Q Ma solo Quando ha finito Quando la Q È arrivata Addosso a voi Questo è un po' Fastidioso Però Il resto Le strong pick Prendiamo Altri HP Perché scalano tutti Con lo scudo Che scala Con la vostra Max Hell Non so di quanto Però è Basso il valore Probabilmente Scala Sulla Vita bonus Forse Perché se no Scalerebbe Molto poco È un 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 55 Un 0,55 Cioè Un 5,5% Quanto è? 140 No Aspetta c'è chi Sì Un 5,5% Una cosa del genere Non abbiamo la ultima Andiamo Andiamo È un full tank Forse Non lo so Non è Né troppo forte Né troppo evole Secondo me Ci sta Se veniva nella mia W Magari Ce la facevamo Sto che a me Non è andato bene Pensavo Pensavo fosse più forte Sinceramente Shen È molto forte Contro i tank Adesso Renatton Non si vorrebbe Vedere molto Nella season Però è molto forte Contro i tank Questo Tipo contro Maokai Malfight E sta roba Qui è molto forte A fine abbiamo comunque Lato pressione Su la map Renatton Ha dato 0 Perché abbiamo fatto Le ulti Che ci hanno fatto Salvar gli alleati Non si è vista La forza e Shen Perché non ci sono stati Quei grossi Comeback Cioè nel senso Il mio team Non si è mai trovato In situazioni Diffici In cui serviva Per forza La mia ulti Ho semplicemente Salvato qualcuno Con una ulti Ma Veramente La ulti e Shen In alcune situazioni Può cambiare Completamente Le sorti del fight Adesso vediamo Se possiamo fare Un chest opening Ragazzi Vediamo se lo faccio Per voi Penso di si Penso di si Penso di poterlo Fare per voi E infatti Lo faccio per voi Attenzione ragazzi Forge Ci abbiamo Add to loot Open 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 Ti openo tutto Mafia Graves Carino Carino ci sta Comunque raga In conclusione Shen E' così Non è Eccezionale Non è sbroccato Però Secondo me E' buono Soprattutto in un meta In cui devi pillare i carry Puoi permetterti Di stare sempre in giro A splittare Devi splittare sempre Non gruppare col team Perché devi sfruttare Il vantaggio Della tua ulti E contro Un avversario Che non ha il tp E ha una spell Aggressiva Come ignite E qualcos'altro Ti conviene giocare Passivo Cosa che io Non ho fatto E mi ha penalizzato Perché Quando smartphone Voglio vincere le n Ma in realtà In questo caso Avrei dovuto solo Giocare passivo Non dare quella free kill E sfruttare il vantaggio Dopo il late game Del fatto che non hanno il tp Contro uno shen In modo da poter Comunque Potevo aiutare gli alleati Eccetera In realtà Non poteva fare nulla Comunque Spero vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Lasciate like Iscrivetevi C'è tu c'è fede Un sacco di roba In descrizione E bello a tutti Il late game Bello